ragazzi ho messo la ninfa subito cavedanello ciao a tutti ragazzi vi spiego brevemente che cosa andremo a vedere andremo a vedere la seconda parte del video sulla tenkara e ninfa a cavedani in questa parte di video pescherò principalmente a ninfa si tratta di una seconda pescata in realtà è fatta esattamente il giorno dopo a quella precedente quella del primo video e non parlerò molto nel video perché ero preso dalla pescata ma ho voluto registrare lo stesso e le attrezzature sono le medesime del primo e il torrente è lo stesso del primo solo che faccio il tratto successivo entrambe le pescate sono registrate a inizio maggio prima delle piogge ora il torrente non è assolutamente così l'acqua è marrone la corretta è forte ed è impescabile ci sono andato la settimana scorsa è davvero non è davvero pescabile e quindi niente volevo solo dirvi queste due cose e spero che se anche nel video non parlo molto possa piacervi comunque lo stesso andiamo in pesca ragazzi ho messo la ninfa subito che vedo nello prima l'angelo ora secondo lancia secondo cavedano ecco si amata anche questa niente, non sono spaventati ormai non ragazzi, sono andato a prendere godina che posto che posto piccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.